potrei farne tante altre di queste domande a monte c'è quella che ci facciamo oggi perché la famiglia è un nemico perché la famiglia fa così paura c'è una risposta unica per tutte queste domande perché ci definisce perché è la nostra identità perché tutto quello che ci definisce in questo tempo è un nemico per chi vorrebbe che non avessimo più un'identità e che fossimo solamente schiavi, consumatori perfetti e allora è sotto attacco l'identità nazionale è sotto attacco l'identità religiosa è sotto attacco l'identità di genere è sotto attacco l'identità familiare non devo potermi definire italiana, cristiana donna, madre, no io devo essere cittadino X, genere X genitore 1, genitore 2 devo essere un numero perché quando sarò solamente un numero quando non avrò più un'identità quando non avrò più radici beh allora sarò lo schiavo perfetto in balia della grande speculazione finanziaria il consumatore perfetto e questa è la ragione per la quale questa è la ragione per la quale oggi noi facciamo tanta paura questa è la ragione per la quale oggi questo appuntamento fa tanta paura perché noi non vogliamo essere dei numeri noi siamo qui per dire che noi non siamo dei numeri noi difenderemo il valore della persona umana di ogni singola persona umana perché ognuno di noi ha un codice genetico unico e irripetibile e questo piaccia a un Noah del sacro lo difenderemo difenderemo Dio, la patria e la famiglia che fanno tanto schifo a qualcuno lo faremo per difendere la nostra libertà perché noi non saremo mai schiavi e semplici consumatori in balia della speculazione finanziaria ecco la nostra missione ecco perché oggi sono